Un quarto d'ora dalla fine avevamo la partita in pugno, però l'imponderabile non l'abbiamo previsto. È normale che ci sta, se c'è stato un errore umano, ci può pure stare, ma non mi sento di rimproverare niente. I miei ragazzi sono stati bravissimi, chiaramente loro mettendo forza fisica davanti, avendo qualche attaccante in più, è normale per forza di cose che devi un attimino adeguarti anche in virtù del fatto che comunque devi difendere il 2-0. È inutile che tenti di fare il fenomeno tra parentesi perché poi non va bene e se non corri ai ripari magari ti saresti potuto rimproverare se mi fossi accontentato del 2-0. Vuol dire che devo andare così, era destino, mi sento solo di ringraziare tutti indistintamente. I miei ragazzi hanno dato l'anima, fino alla fine è sinceramente brutto perché avevamo dominato la partita. Qui l'abbiamo dominata, lì non l'abbiamo mai sofferto, però purtroppo poi il risultato è quello che conta. Ci vorrà sicuramente del tempo per smaltire questa delusione, però si può ripartire dalle lacrime dopo partita? No, guardo, intanto dobbiamo riprenderci, credimi, ora come ora mi sento distrutto, è come se mi fosse veramente caduto un grattacielo addosso. Quindi dirti da dove e come si riparte non lo so, credimi, in questo momento intorno a me ho il vuoto e penso che c'è tanta amarezza al di là di quello che si potrà verificare da qui a un mese e mezzo chiaramente, però pazienza. Grazie a tutti.